Approcci superficiali ma ripetuti con una ragazzina di 15 anni, approcci diventati col tempo incontri frequenti che hanno portato in carcere un uomo di 57 anni italiano senza tetto. L'uomo è accusato di violenza sessuale per induzione ed è stato arrestato dai carabinieri di Vaiano che al termine di indagini e pedinamenti hanno eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato su richiesta della procura. L'uomo è stato fermato in centro storico e non ha opposto resistenza. Secondo gli investigatori avrebbe approfittato dell'abile stato psicologico della quindicenne per conquistare la sua fiducia e indurla a frequentazioni tanto assidue che le facevano addirittura saltare la scuola. E sono state proprio le numerose assenze a scuola a mettere in allarme la madre che compresa la situazione si è rivolta ai carabinieri. Proveniente da un contesto familiare delicato la ragazzina ha evidentemente pensato di trovare nel 57enne conosciuto alla fermata dell'autobus una figura in grado di sostituire quella del padre. Tra le contestazioni anche un tentativo di violenza l'uomo spacciandosi al telefono per un proprio familiare appartenente alle forze dell'ordine avrebbe detto alla minore di aver fatto perdere la testa al 57enne che l'avrebbe protetta e portata via dalla famiglia se lei avesse consentito ad un rapporto sessuale completo. Le indagini dei carabinieri sono andate avanti per alcune settimane fino a quando il quadro non è stato chiaro e il pubblico ministero ha avuto in mano tutti gli elementi utili per chiedere al giudice di emettere l'ordinanza di custodia cautelare. Il 57enne è rinchiuso nel carcere della Dogaia. Nei prossimi giorni l'interrogatorio di garanzia.